allora salve amici oggi vi parlo di un'eventualità che può accadere ai possessori di stilografica quando ci accorgiamo che sui nostri pennini compaiono delle piccole goccioline di inchiostro è normale diciamo non dovrebbe accadere però è anche normale ogni tanto può accadere ecco ma quando le notiamo all'interno del cappuccio e del contro cappuccio e allora ci andiamo un pochino a preoccupare perché utilizzando, aprendo, chiudendo queste gocce inchiostro andando a finire come minimo sulle nostre mani se non sulla carta che stiamo utilizzando, i nostri quaderni, macchie, vestiti, camicie eccetera eccetera come evitare tutto ciò? Perché accade tutto questo? Andiamolo a vedere inchiostro nel cappuccio? Cosa fare? Per quale motivo possiamo trovare delle gocce o dei residui di inchiostro all'interno del cappuccio della nostra bea amata stilo o ben amata stilografica? I motivi sono veramente tanti infatti domande del genere senza ulteriori approfondimenti o indizi ci portano a pensare che un meccanico dovrebbe riparare un'auto solo ascoltando il rombo del motore del mezzo meccanico allora alcuni meccanici in alcune situazioni lo possono fare no? Perché mancanza di tempi, di situazioni però proviamo a risolvere i problemi simili e in particolare atteniamoci alle stilografiche pur sapendo che spesso si va ad intuito oppure per tentativi le gocce di inchiostro nei casi più semplici si riducono alla punta del pennino piccole goccioline sul pennino generalmente è normale altre volte però si accumulano nel cappuccio o più spesso nel controcappuccio di una stilografica vediamo insieme alcune delle tantissime possibilità allora la prima causa più frequente vi verrà da ridere ma sono gli sballottamenti della stilografica i quali possono avvenire sia durante il suo trasporto in borse, astucci, mezzi pubblici, motorini quello che vi pare sia nelle nostre mani perché spesso ho visto rigirare le penne tra le mani utilizzandoli come mezzo antistress oppure agitandole come se fossero attrezzi ginnici o circensi agitare le stilografiche può provocare una fuoriuscita di inchiostro che dalla punta del pennino andrà a depositarsi nel fondo del cappuccio chiaramente nel fondo del cappuccio se la stilografica è chiusa e se no c'è possibilità di schizzare tutto quello che c'è intorno il problema si risolve semplicemente evitando di agitare le stilografiche oppure difendendole durante i trasporti con appositi contenitori chiaramente dopo un trasporto su un mezzo pubblico sei arrivato a casa, in ufficio bughe contro bughe chissà che hai combinato sei passando nel rotor di un parco divertimenti hai fatto anche le montagne russe è normale avere delle macchie, delle goccioline nel cappuccio? sì, è normale, la asciugherai con uno scottex ma se invece ci giochi, non te ne rendi conto con la stilografica ecco, tienilo a mente la seconda causa però importante potrebbe derivare dalla pressione provocata nello stappare il cappuccio a pressione non quello a vite stappare e tappare la stilografica in alcuni modelli provoca una sorta di risucchio dell'inchiostro che, come al solito, dal pennino passa a sporcare il cappuccio in alcune stilografiche potresti aver notato un piccolo buco un forellino nella parte cilindrica del cappuccio per lo più nascosto sotto la clip è posizionato appena fuori dalla camera sigillata ed è creato per diversi motivi ma in genere evita il formarsi di condensa e problemi proprio legati allo sbalzo di pressione che, in alcuni casi, rendeva ostico aprire e chiudere il cappuccio in questa problematica metterei anche le fuoriscite di inchiostro dovute agli sbalzi di pressione esterna per esempio, volare in aereo è questo provocare una fuoruscita di inchiostro e abbiamo dedicato un video apposito per le nostre stilografiche che volano andatevelo a vedere la terza causa potrebbe essere legata alla formazione di condensa e umidità all'interno del cappuccio il forellino minuscolo sotto la clip in alcuni modelli serve proprio a questo ma non può essere allargato dal costruttore per evitare il prosciugamento del pennino dell'inchiostro troppo rapidamente la condensa e anche l'umidità è velocizzata nel suo formarsi dal lavaggio della propria stilografica e dalla sua contemporanea mancata perfetta asciugatura spesso dovuta a faciloneria oppure a mancanza di tempo per cui laviamo la stilografica non aspettiamo tutta la notte magari tra prentesi non è manco estate perché in estate magari bastano poche ore in altre situazioni no va asciugata dovete averne proprio la certezza non a no ad occhio ma mettete il pennino su della carta assorbente e vedete se effettivamente esch continua a uscire delle microparticelle di acqua non a far asciugare la stilografica oltre a creare umidità e condensa può provocare anche la diluzione dell'inchiostro quindi fate attenzione ai cambi di inchiostro dopo che una stilografica è stata lavata senza averla fatta asciugare perfettamente altro elemento da considerare la posizione della stilografica messa a riposare in genere si deve tenere orizzontale col pennino rivolto all'insù e solo in rari casi col pennino rivolto in giù quando per esempio si teme un prosciugamento rapido per via di condizioni ambientali straordinarie stai nell'equatore sei un missionario la penna apri chiudi apri chiudi è bene che tu la debba tenere un pochino in una ma è raro questo insomma quanti so i missionari nell'equatore dai a parte me nessuno ricordatevi che sbalzi termici vicinanza di fonti di calore temperature elevate durante l'estate o in ambienti particolari non dico che stai a scrivere vicino a un alto forno ma talvolta basta anche una pompa di calore un camminetto un calorifero e perfino e tu non ci crederai ma è così perfino il calore delle nostre mani può produrre un aumento di volume dell'inchiostro e una conseguenza fuoriuscita dello stesso dal pennino che arriva logicamente fino al cappuccio ultima conseguenza diretta può essere può essere l'utilizzo di un inchiostro troppo fluido per la vostra stilografica ad esempio l'aurora black l'herbin perl perl noir oppure tutti i paliot hiroshisuku sono considerati degli ottimi inchiostri proprio per ravvivare il tratto di pennini stitici proprio per le loro caratteristiche di fluidità se avete problemi di macchioline sul pennino o nel cappuccio spesso è buona norma cambiare tipologia di inchiostro e passare a inchiostri più densi il pelica 4001 è considerato ad esempio dagli appassionati un'ottima risorsa anche per estringere il tratto del proprio pennino o appunto in questi casi se tutte le cose precedenti tutte le precedenti segnalazioni sono state inefficaci allora c'è da valutare un'attenta analisi del sistema di alimentazione in particolare conduttore e sezione poiché spesso la causa di queste perdite è la formazione di microcrepe e conseguenze perdita di impermeabilità con traslutamento e logicamente perdita di inchiostro che spesso e volentieri stranamente o perfettamente andrà proprio ad accumularsi nel nostro ben amato cappuccio allora per oggi è tutto un abbraccio e buon Faber Castel a tutti e buon Faber Castel